A Castelraimondo, provincia di Macerata, nell'entroterra maceratesi, Roberto Porcarelli Coal da 40 anni al servizio della propria clientela con simpatia e cordialità. Provare per credere a Castelraimondo, Coal Porcarelli, più convenienza e bontà. Vi aspetto da 40 anni. Arriva marzo, pazzerello, esce il sole, prendi l'ombrello. E così devi fare. Da dove? Da Castelraimondo. Da Castelraimondo.